In quel tempo Gesù disse a Nicodemo Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. Sono state fatte in Dio. Sapete qual è il simbolo che identifica le farmacie? Un serpente che si attorciglia su un bastone. L'interpretazione comune riconosce in questo simbolo il bastone del Dio Asclepio, il Dio della salute. Il serpente, dato che ogni anno cambia la vecchia pelle, è adatto ad indicare il miglioramento ottenuto grazie alle cure mediche, mentre la verga, lo strumento che simboleggia l'azione dell'uomo nel somministrare le cure degli uomini. La Bibbia però ha scelto il serpente come animale che provoca la morte con il suo veleno, ma anche capace di neutralizzare il veleno stesso. In effetti, il termine greco che indica il veleno del serpente ha a che fare con la farmacia. Farmacos, appunto. Usati in tempi e modi opportuni, il veleno del serpente diventa miracolosamente un farmaco. Non diciamo cose astruse e neppure semplicemente mitologiche. Sappiamo bene che per vincere una malattia si inietta nel corpo malato il virus della malattia stessa, in modalità opportune. È il veleno stesso che ci guarisce. Ora pensiamo a Gesù. Cosa fa Gesù per vincere il virus del peccato che dilaga nell'umanità? Si fa lui stesso virus. Si fa lui stesso peccato. E si lascia iniettare nell'umanità moribonda attraverso la croce. Come Mosè nell'Antico Testamento ha innalzato il serpente per vincere il morso del serpente, così Gesù viene innalzato sul palo, sul bastone della croce. È lui il vero Dio della salute, della salvezza, il vero farmaco dell'immortalità. Dio della salute, della salvezza, il vero farmaco dell'immortalità.